Entro la fine di giugno, questi segni zodiacali vinceranno il jackpot. Immagina che le stelle si allineino in una configurazione ideale, aprendo la porta a incredibili opportunità e benessere finanziario. Prima della fine di giugno, questi segni zodiacali scelti vinceranno il vero jackpot, acquisendo inaspettatamente e improvvisamente ricchezze che prima potevano solo sognare. Chi sono questi fortunati il cui destino cambierà grazie all'influenza cosmica? In questo video sveleremo quali segni zodiacali saranno al centro del favore degli astri e cosa porterà loro esattamente questa fortuna inaspettata. Unisciti a noi per scoprire come le stelle possono influenzare le nostre vite e quali incredibili sorprese finanziarie sono in serbo per alcuni di noi nelle prossime settimane. Iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche per non perdere queste entusiasmanti previsioni astrologiche che potrebbero cambiarti la vita. Il primo segno è il toro. Fino alla fine di giugno, il segno zodiacale toro prevede una vera esplosione finanziaria. Questo periodo sarà un momento di straordinaria fortuna per il toro, con le stelle allineate in modo tale da dargli la possibilità di vincere il jackpot della vita. Conosciuti per il loro approccio pratico e la forte determinazione, i toro scopriranno che i loro sforzi negli investimenti e negli affari daranno frutti significativi in modi inaspettati. Che si tratti di una grande vittoria, di un'eredità inaspettata o del completamento con successo di una transazione finanziaria rischiosa, il toro sentirà come la fortuna li trova nel momento più necessario. Questa straordinaria rivoluzione negli affari finanziari non solo rafforzerà la loro situazione finanziaria, ma consentirà anche di realizzare sogni a lungo termine di grandi acquisti o investimenti in progetti a lungo termine. Il toro, che raramente si abbandona a desideri fugaci, può permettersi di deviare dai suoi principi e realizzare i desideri per cui lotta da molti anni. Giugno per il toro sarà pieno non solo di piacevoli sorprese, ma anche della consapevolezza che l'intuizione e la capacità di aspettare sono componenti importanti del loro successo. Questo tempo confermerà che la pazienza può davvero dare i suoi frutti e che ogni sforzo alla fine verrà ricompensato. Questo mese ci ricorderà con forza che a volte, per ottenere risultati incredibili, basta essere nel posto giusto al momento giusto. Il secondo segno è la Vergine. La fine di giugno sarà segnata da un inaspettato successo finanziario per il segno zodiacale della Vergine. La diligenza e la precisione che i Vergine mettono in ogni attività che svolgono daranno finalmente i loro frutti sotto forma di jackpot. Questo sarà il momento in cui tutti i piccoli dettagli e le strategie a lungo termine si sommeranno per ottenere un grande risultato. Il successo finanziario inaspettato arriverà come riflesso della loro costante ricerca dell'eccellenza. Per molti Vergine, questo periodo confermerà che la pazienza e la dedizione sono le chiavi della vera prosperità. I Vergine scopriranno che la loro capacità di analisi e pianificazione ripaga quando saranno in grado di sfruttare al massimo le opportunità che improvvisamente si aprono davanti a loro. Che si tratti di una grande vincita alla lotteria o di un improvviso ritorno sull'investimento, il successo sarà evidente. Queste opportunità non solo miglioreranno la loro situazione finanziaria, ma permetteranno loro anche di realizzare alcuni dei loro sogni più sfrenati. Potranno permettersi più di quanto avessero mai immaginato e questo darà loro nuovi incentivi per un ulteriore sviluppo. Il vento di cambiamento finanziario favorirà anche i nuovi inizi. Molti Vergine decideranno di investire in nuovi progetti o di espandere la propria attività, utilizzando l'afflusso di fondi come mezzo per raggiungere obiettivi a lungo termine. Questo è anche un ottimo momento per apprendere nuove competenze o sviluppare quelle esistenti, che possono aprire ulteriori fonti di reddito. I Vergine troveranno conferma in questo periodo della loro filosofia, secondo cui la capacità di gestire il denaro è importante quanto guadagnarlo. Saranno un esempio per gli altri in materia di alfabetizzazione finanziaria e distribuzione economica delle risorse. Questo è anche il momento in cui possono aiutare gli altri condividendo la loro esperienza e conoscenza nella gestione finanziaria. Il successo arriverà non solo sotto forma di denaro, ma anche come aumento della fiducia in te stesso e nelle tue capacità. I Vergine si sentiranno più indipendenti e potenti, consentendo loro di assumersi maggiori responsabilità e rischi. Questo periodo sarà una tappa importante nella loro vita, un momento in cui potranno apprezzare appieno i frutti delle loro fatiche. Quindi, prima della fine di giugno, la Vergine vincerà davvero il jackpot, il che cambierà non solo la loro condizione finanziaria, ma anche il loro atteggiamento nei confronti della vita. Con questa nuova ricchezza, saranno ispirati a realizzare cose nuove, aprendo nuovi orizzonti di possibilità per se stessi. Il terzo segno è l'acquario. Fino alla fine di giugno, il segno zodiacale dell'acquario sarà al centro dell'attenzione finanziaria, vincendo un jackpot in denaro che sconvolgerà il loro mondo. Questo sarà un periodo di fortuna senza precedenti, in cui le stelle e i pianeti si allineeranno in perfetta sequenza, aprendo le porte a inaspettate opportunità finanziarie per l'acquario. Conosciuti per la loro innovazione e originalità, gli acquari saranno in grado di esprimere pienamente i loro talenti unici, che porteranno a significativi benefici materiali. L'inizio dell'estate porterà con sé un'ondata di nuovi progetti e imprese in cui gli acquari troveranno opportunità di investimento in grado di moltiplicare il loro capitale. Scopriranno improvvisamente che le loro idee e i loro progetti di lunga data, forse precedentemente accantonati o non apprezzati, ora attirano l'attenzione di investitori e partner. Questi progetti inizieranno a generare entrate più velocemente del previsto e gli acquari si renderanno conto che il tempo dedicato all'innovazione e all'assunzione di rischi sta finalmente dando i suoi frutti. Inoltre, gli acquari potrebbero aspettarsi flussi di cassa inaspettati, come vincite alla lotteria, eredità o bonus che non stavano nemmeno inseguendo. I loro social network e le connessioni che hanno coltivato con cura inizieranno a svolgere un nuovo ruolo nel loro successo finanziario, aprendo loro nuovi orizzonti per guadagnare e investire. Gli acquari saranno sorpresi di scoprire che il loro approccio non convenzionale agli affari e alle finanze personali inizia a portare non solo il rispetto dei colleghi, ma anche denaro reale. Questo periodo sarà anche il momento per rivedere le proprie strategie finanziarie e i piani per il futuro. Gli acquari potrebbero decidere che è ora di investire più seriamente o addirittura di avviare un'attività in proprio. La loro visione progressista e la capacità di pianificazione a lungo termine si riveleranno fondamentali per trovare e sfruttare nuove opportunità per aumentare la propria ricchezza. Un aspetto importante sarà anche la possibilità di utilizzare le proprie risorse finanziarie per sostenere progetti pubblici e di beneficenza, da sempre vicini all'acquario. Troveranno modi non solo per aumentare la loro ricchezza, ma anche per condividerne i frutti con coloro che ne hanno bisogno, il che aumenterà la loro soddisfazione per i risultati ottenuti. La fine di giugno per l'acquario sarà il momento in cui non solo vincerà il jackpot in contanti, ma confermerà anche la sua reputazione di persone capaci di pensare fuori dagli schemi e andare oltre il solito. Questo periodo metterà in risalto che la vera fortuna è una combinazione di tempismo favorevole, decisioni giuste e capacità di vedere opportunità dove gli altri vedono solo ostacoli. Il quarto segno è il leone. Prima della fine di giugno, il segno zodiacale del leone sarà al centro dell'attenzione finanziaria, vincendo un importante jackpot in denaro che cambierà le loro vite. Questo mese sarà il culmine di un lungo periodo di lavoro e impegno, coronato da un successo inaspettato ma meritato. Conosciuti per il loro magnetismo e carisma, i leone saranno in grado di utilizzare le loro capacità di leadership per attrarre opportunità lucrative che porteranno loro non solo riconoscimento, ma anche significativi vantaggi finanziari. In questo momento, i leone si troveranno di fronte a una serie di opportunità uniche, che potrebbero includere investimenti redditizi, improvvise offerte di cooperazione o persino la vincita di una grande partita finanziaria. La loro naturale fiducia e ottimismo li aiuteranno a fare le scelte giuste che aumenteranno la loro ricchezza. I leone scopriranno che i loro rischi e le loro ambizioni inizieranno a dare i loro frutti, permettendo loro di realizzare sogni di ricchezza e lusso a lungo coltivati. Questo periodo metterà in evidenza anche la loro capacità di influenzare le persone e gli eventi che li circondano. Il loro potenziale di leadership e la capacità di persuasione si riveleranno fondamentali nella conclusione di accordi e trattative che si riveleranno inaspettatamente redditizie. I leone potranno dimostrare le proprie capacità gestionali, attirando l'attenzione sia dei partner commerciali che dei potenziali investitori. Il successo finanziario del leone a giugno avrà un impatto anche sulle sue relazioni personali e sullo status sociale. Scopriranno che il loro successo attira nuovi amici e fan e la loro capacità di intrattenere e ispirare gli altri diventa più evidente. Ciò, a sua volta, aprirà loro nuove porte nel mondo dell'intrattenimento e degli eventi sociali, dove potranno rafforzare ulteriormente le loro connessioni e la loro influenza. Di conseguenza, giugno per il leone sarà il mese in cui potranno davvero sentire il sapore della vittoria e della buona fortuna. La loro capacità di catturare l'attenzione e di guidare si manifesterà non solo nell'aumento delle finanze, ma anche nella crescita della loro influenza negli ambienti sociali e professionali. Sentiranno di poter raggiungere qualsiasi altezza e la loro energia e passione per la vita saranno evidenti a tutti coloro che li circondano.